... 8.45 Bergamo 11 gradi pioggia dirotta da 6 giorni Destinazione Reunion, 31 gradi, sole a picco, estate. Sous-titrage Société Radio-Canada Grazie a tutti. 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 Oggi si è conclusa la parte adventure della nostra vacanza qui alla Réunion. In questi 4 giorni infatti abbiamo cercato di scoprire l'isola in tutti i suoi aspetti. Abbiamo visitato il Maidò, che è il monte qua sopra, il villaggio dell'Ermitage, abbiamo visitato il Piton e abbiamo visitato il vulcano. Quindi con oggi probabilmente si è conclusa la prima parte più turistica della nostra visita a quest'isola e da domani si apre invece la parte più racing e inizia la vera mega avalanche, la riunione. Terreni molto difficili, polverosi, quindi è difficile prendere le misure su chi ti sta davanti, single track completamente diversi uno dall'altro, faticosissima a livello fisico ma anche a livello mentale. Non è una gara facile sicuramente da come ho visto e da quello che ho visto fino adesso è la gara più difficile dell'anno. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.